Pronto? Sì, sono Pasqua Vuole parlare sulla mia carriera YouTube? Ah! Vuole che dica i fan questa cosa Fan! Se non siete 50 gli iscritti vi do un frecone di mazza Cosa? Mi cadrà qualcosa sulla faccia o mi colperà? Mi colperà una cosa sulla faccia Eh, ma... Non capisco Questa cosa Ciao Sono Pasqua Bentornati in un nuovo video Quella che sentite è la mia sorella Simona, viè! E' tu? Viè! E' tu sei arrivato il video? No! Che palle Siesimo Questo Sono tutte Vabbè Ehm... Questo video sarà molto lungo Ehm... Ehm... Ehm...